Pietro Ichino è uno dei massimi giuslavoristi italiani, eletto in Senato ha scritto un libro curioso sui temi dell'occupazione, il lavoro spiegato ai ragazzi e anche ad alcuni adulti, edito da Mondadori. Il mio intendimento era quello di far capire almeno gli aspetti più importanti di una realtà molto complicata che è il mercato del lavoro, perché i giovani, gli adolescenti compiono fra i 15 e i 20 anni le scelte decisive per il loro futuro professionale, personale e oggi compiono queste scelte senza avere la minima idea di come funziona il mercato del lavoro e di ciò che li attenderà nel mercato del lavoro. Questo libro, il lavoro spiegato ai ragazzi, vuole contribuire almeno a colmare un po' questa lacuna di orientamento, di informazione che credo abbia un ruolo molto pesante nel determinare la disoccupazione giovanile in Italia. Giobax, cosa va e cosa non va in questo provvedimento? Se parliamo del decreto Poletti direi che sicuramente è molto positivo il fatto che sia stato abbattuto il muro che separava domanda e offerta di lavoro nel settore del lavoro a termine, avrei preferito, sarebbe stato meglio che altrettanto avvenisse simmetricamente nel campo del lavoro a tempo indeterminato. Poi ci sono diverse imprecisioni, difetti di chiarezza nel testo legislativo che però chiariremo e perfezioneremo nel decreto, nel disegno di legge delega che stiamo esaminando in Commissione. Ecco, può una riforma del mercato del lavoro aumentare l'occupazione o serve anche altro? Le norme legislative non creano lavoro, però purtroppo hanno il potere di impedirlo e quindi il migliorare la disciplina legislativa può servire a far aumentare l'occupazione riducendo gli ostacoli. Però è ovvio che l'aumento della domanda di lavoro deve essere determinato soprattutto da un aumento degli investimenti e in Italia in particolare dobbiamo puntare sulla apertura del sistema agli investimenti diretti esteri. L'Italia è oggi ermeticamente chiusa agli investimenti esteri e questo è un grosso problema per la nostra economia. Tra le misure necessarie per aprire il Paese, oltre al miglioramento dell'efficienza delle amministrazioni, alla riduzione del costo dell'energia che in Italia è più alto che altrove, anche un miglioramento del funzionamento del mercato del lavoro è una cosa molto importante.